buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata della diretta cripto spritz ormai è diventato un appuntamento periodico ogni mercoledì alle 11 alle 23 faremo un recap delle cripto valute più importanti e dei progetti magari che meritano attenzione stasera andiamo partiamo come sempre con il bitcoin il bitcoin che dopo ahimè il forte dump che c'è stato del 7 settembre dovuto appunto alla questione come tutti sappiamo di el salvador chi dice che hanno voluto hanno voluto punire el salvador per aver azzardato questo a questa questa politica diciamo di di prendere come valuta alternativa valuta fiat alternativa il bitcoin alcuni addirittura dicono che l'hanno voluto agevolare permettendogli di incrementare le posizioni ma chi ha ragione io non lo so però fatto sta che c'è stato questo grande questa importante candela di arresto di una tendenza partita il 20 luglio scorso dopo aver appunto evidenziato una dopo il 20 luglio una un'onda n con target nei dintorni di 52 53 mila dollari è stato filato proprio al al millesimo il target di 53 mila dollari mancava poco diciamo 52 mila 49 45 poi c'è stato questa forte candela di arresto che ha segnato il 7 settembre un meno 11 con un picco nei dintorni del meno 20 per cento proprio con precisione quasi il meno 20 meno 19 04 con un picco massimo del meno 19 04 dopo questo movimento andiamo ad analizzare la situazione sul time frame giornaliero naturalmente dopo aver registrato questa forte candela di arresto su questa tendenza appunto partita a luglio il 20 luglio il prezzo cosa ha fatto ha lateralizzato qualche giorno disegnando un bel pattern che a me piace molto è una legge un po' sporchina in realtà c'è stato un piccolo trading range e un trading range diciamo parte qualche sfuriata al di sotto dei 44 mila dollari il prezzo è oscillato tra diciamo 44 mila dollari e 46 e 8 grosso modo ieri c'è stata la prima manifestazione di forza di cambio di tendenza oggi c'è stata un po' di partecipazione segnando un massimo a 48 mila 48 mila 429 dollari attualmente sta leggermente ritracciando però sembrerebbe proprio un bel un bel movimento però andiamo ad analizzare un po' le ciclicità su questo asset per capire un pochettino cosa possiamo aspettarci nell'immediato futuro innanzitutto c'è da dire che il ciclo annuale che io analizzo sul tempo giornaliero segnala forza diciamo c'è forza su questo ciclo c'è una manifestazione una live manifestazione di forza però manca la velocità vedete il prezzo non ha non ha ancora accelerato non ha accelerato però qualora dovesse accelerare nel nel prossimo periodo mi aspetto una nuova ondata una seconda ondata rialzista di intensità non da sottovalutare come potete notare anche la volatilità ciclica nell'ultimo periodo è in aumento sta aumentando quindi speriamo che il prezzo inizia ad accelerare e oltre a evidenziare questo pattern qui questa legge un po' sporca oltre in range c'è quasi un pattern diciamo stiamo assistendo alla creazione di un pattern che anche questo pattern l'ho riscontrato tantissime volte in realtà non è stato ancora teorizzato da nessuno però sembrerebbe un'accelerazione parabolica io l'ho soprannominato il manico del secchio o una conchetta una conca praticamente è una forma fa così vedete di accelerazione parabolica suggerisce un'accelerazione parabolica naturalmente l'attivazione del pattern si è verificata al superamento di questo livello qui cioè proprio la candela di oggi ha attivato questo pattern come target è naturalmente il top di periodo dei 53 mila dollari come primo target però già abbiamo una trendline ribassista identificata questa trendline da pochissimo quindi potrebbe fungere da resistenza dinamica quindi nei prossimi giorni attenzione alla sì questa linea di tendenza potrebbe creare qualche problemino comunque dei prezzi attuali la prima resistenza molto blanda è 49.360 dollari parlo sempre analisi a livello di time frame giornaliero la seconda resistenza da non sottovalutare è nei dintorni di poco meno di 53 mila dollari ma la resistenza che io reputo leggermente più ostica deriva dallo studio dei mercati derivati dalle opzioni ed è fissata nei dintorni di 54 mila dollari al di sopra di 54 mila dollari poi abbiamo davvero poche resistenze importanti poche resistenze importanti quindi non mi aspetto subitissimo una un'accelerazione a quei livelli però potrebbe esserci però andiamo come sempre a vedere nei sottocicli quindi quando possiamo aspettarci questa diciamo in quale ciclo mi aspetto un attacco ai 60 mila dollari quindi scaliamo di time frame e andiamo ad analizzare il ciclo a tre mesi ciclo a tre mesi come ho detto prima che è partito il 20 luglio quindi secondo il mio modello ciclico poiché il minimo centrale è spostato verso destra come mi sa che l'ho segnalato già la volta scorsa di 4 giorni 5 giorni quindi il top l'area di top deve essere spostate di 4 5 giorni verso destra quindi mi aspetto un'area di massimo stimata per il 23 il 24 settembre su questo su questo ciclo intermedio che potrebbe continuare potrebbe continuare questa tendenza anche fino a fine settembre perché ci sarebbe l'ultimo ciclo settimanale di questo diciamo di l'ultimo ciclo settimanale rialzista quindi all'interno di questo ciclo intermedio mi aspetto quantomeno che il prezzo si posizioni e si stabilizzi sopra i 50 mila dollari per poi magari oscillare leggermente tra i 54 mila e 48 per chiudere questo ciclo intermedio verso metà ottobre e poi dopo metà ottobre magari pensare di attaccare i massimi almeno questo è quello che io personalmente mi aspetto che non è come dico sempre una una e secondo la mia interpretazione non è una una legge mettiamola così poi avevo anche segnalato sul sul mio gruppo o meglio a chi mi segue un pattern di accumulazione un pattern di accumulazione come sempre mutuato dal mitico wyckoff e quindi andiamo direttamente sul ciclo settimanale per analizzare questa questo pattern quindi scalo di time frame vado sul ciclo settimanale quindi perdonatemi concludendo il discorso del ciclo intermedio al massimo fino a fine settembre se dovesse prolungarsi leggermente mi aspetto una fase di forza una fase di leggera forza quantomeno dobbiamo recuperare tentare di recuperare l'area dei 50 mila dollari allora ritorniamo a quello che stavamo dicendo sul ciclo settimanale ed ecco qui il ciclo settimanale partito il 10 settembre in realtà mi ha tratto un po' in inganno la questa struttura ciclica perché io credevo che il praticamente a prima la prima analisi che ho fatto avevo ipotizzato il 7 settembre come chiusura del ciclo settimanale in realtà per come si è comportato il prezzo naturalmente questo lo ne abbiamo evidenze ex post allora ho dovuto aggiustare il tiro portando il minimo del ciclo settimanale al 10 settembre e portandolo qua i conti tornano tornano a parte questo leggero up and dump dovuto appunto l'altro giorno che c'è stata la bufala sull'itecoin e roba varia un po' il mercato ha sussultato ah ragazzi non vi ho chiesto se si sente e si vede qua rischio di parlare da solo datemi un feedback mi sono dimenticato perdonatemi vedo che ci sono diverse persone collegate ragazzi datemi gentilmente un feedback allora nel frattempo che voi mi date questo feedback andiamo a vedere un pochettino il questa figura questo pattern di wyckoff pattern di wyckoff che l'area dell'automatic reversal era 47.340 quindi alla violazione di 47.340 e ancor prima c'è stato un suggerimento di ipotetica tendenza rialzista alla violazione di questa trend line discendente ok grazie ragazzi per il feedback stasera sono partito a bomba che c'è tanto da dire e mi sono dimenticato di chiedervi il feedback quindi riportandici sopra l'area dell'automatic reversal c'è stato proprio oggi un altro bellissimo bellissimo segnale di forza rialzista che è la violazione del della soglia di equilibrio la soglia di equilibrio di questo diciamo di questa tendenza di quest'ultima tendenza che è rappresentata da questa linea celestina questa linea celestina è lo mutuata da da ichimoku con settaggi ovviamente ciclici quindi alla violazione di questa di questo livello di equilibrio allora abbiamo la non dico la certezza assoluta ma abbiamo una buona evidence che ci stiamo muovendo in quel senso naturalmente ritracciamenti fino a 46 mila dollari sono contemplati sono contemplati anche perché il mercato deve oscillare deve oscillare naturalmente il primo livello di supporto utile e 47 mila 340 dollari poi l'altro livello un bel livello di supporto e 46 mila 25 dollari poi super livellone supportivo 43 mila 770 ma non credo che ci arriviamo sinceramente anche perché questo ciclo settimanale ha preso tantissima forza vediamo anche il nostro indicatore di ciclo il press oscillatore che ha tagliato a rialzo la linea di equilibrio quindi questo è un altro bel segnale di forza poi andiamo a vedere la velocità con cui si sta muovendo il prezzo vedete il mio indicatore di velocità che mi segnala una forte accelerazione perché comunque ha violato a rialzo la linea di equilibrio è la tendenza cioè l'accelerazione o meglio la media mobile applicata a questa velocità ha sorretto sempre questa questa accelerazione quindi è un altro bellissimo segnale inoltre notate che la volatilità sta aumentando attualmente se siamo più o meno nel mezzo di un del ciclo settimanale e questo ciclo settimanale dovrebbe aver forza fino al 17 18 settembre dopodiché una leggera fase di discarico di lateralità di debolezza quel che sia per poi chiudere questa ciclicità nei dintorni del vendi del 20 di 20 21 di settembre dopodiché riparte un nuovo ciclo settimanale e già possiamo vedete possiamo anzi un attimo solo che metto un altro batter plan 34 vabbè non me lo segno indietro grosso modo come aveva sì allora il la prima area di massi è fine settembre vedete qua più o meno è fine settembre quest'area qua nei dintorni di fine settembre quindi è probabile che questa tendenza questa forza perduri fino come ho detto prima fine settembre però a livello di ciclo settimanale diciamo abbiamo sull'attuale ciclo settimanale forza fino al 17 18 settembre poi una leggera fase di debolezza scarico chiude questo ciclo settimanale riparte di nuovo riparte di nuovo e si spera che all'interno di questo di quest'ultimo ciclo settimanale questo qua parlo di questo ci riportiamo nei dintorni di 50 mila dollari o quantomeno al di sopra dei 50 mila dollari il prezzo dovrebbe stabilizzarsi qui sopra per poi chiudere questo ciclo intermedio e già vi ho detto quanto si chiuderà per poi riattaccare nuovamente l'area dei 50 56 mila 57 mila dollari cioè avvicinarsi tentare di avvicinarsi ai 60 mila dollari perdonate però nel prossimo ciclo intermedio e nel prossimo ciclo intermedio quindi attualmente la situazione sul bitcoin non è malaccio non è malaccio quindi è tranquillamente ipotizzabile di ci possono valutare operazioni long naturalmente non a questi livelli ma attendere un uno scarico quindi cercare di per chi non l'avesse già fatto di comprare un po di debolezza se la debolezza è troppo forte naturalmente fate attenzione fate attenzione quindi concluso col bitcoin quindi passiamo ad ethereum ethereum uguale uguale la situazione la ciclicità e anche la forza del ciclo sul ciclo annuale c'è molta forza abbiamo avuto questo questo pattern di accumulazione anche qui secondo waikov l'area di automatic reverse sta per essere approcciato in questo proprio adesso quindi una violazione al rialzo di di questo livello potrebbe suggerire naturalmente operatività long come il livello di supporto guardate che bel che bell allineamento di poc abbiamo in quest'area qua guardate qui abbiamo più o meno eccolo in quest'area qui abbiamo diversi poc allineati questo significa che qua c'è un botto di liquidità che potrebbe sorreggere il prezzo qualora dovesse esserci uno scarico quindi l'area supportiva da questi livelli è 3.383 e 3.440 3.450 perché abbiamo questi allineamenti di poc poi abbiamo anche un nodo volumetrico vedete intorno ai 3.400 dollari ma poi 3.400 dollari è un livello psicologico che ethereum lo ha sentito veramente tante tante volte quindi anche ethereum sta aumentando la volatilità la velocità su ethereum è almeno sul time frame giornaliero si è mantenuta nettamente al di sopra della linea di equilibrio a differenza di quello che abbiamo registrato su bitcoin o sul giornaliero che c'è stata anche se non ricordo male andiamo a vedere ecco qua su bitcoin invece vedete ci troviamo sotto la linea dello zero quindi paradossalmente c'è molta più forza su ethereum paradossalmente no perché io l'ho sempre detto ethereum è uno spettacolo è veramente il futuro a differenza di bitcoin che bitcoin è nato come riserva di valore invece ethereum è tutt'altro è tutt'altro e chi conosce le criptovalute sa quello sa a cosa mi riferisco allora livelli di resistenza il livello di il primo livello di resistenza lo sta lavorando in questo momento però poi lo vedremo meglio sui sul tempo su un time frame leggermente più veloce e poi abbiamo 3.700 dollari come primo livello di resistenza 3.830 poi abbiamo un livello di resistenza a quanto ostico che nei dintorni di 4.000 dollari al di sopra di 4.000 dollari poi non ci resta che l'attacco ai massimi storici e i massimi storici attenzione ragazzi se il prezzo dovesse arrivare qua in iperestensione all'interno di quest'area di prezzo compresa da tra 4.180 dollari e 4.372 perché come dico sempre first test the best quindi qualora il prezzo dovesse approcciare qua in iperestensione sicuramente ci sarà una forte reazione non penso cioè assolutamente non credo che dampi nuovamente come è accaduto in questo frangente però diciamo una bella reazione una bella botta di bassista qua sicuramente ci saranno dei seller col fucile più puntato dei seller o anche chi pensa di prendere profitto all'interno di quest'area e poi magari tentate di violarla in secondo momento però la prima volta che si approccia un livello tale di resistenza naturalmente il prezzo lo sente lo sente e verrà repulso però stiamo costruendo diverse aree di supporto al di sotto di questa resistenza in modo che qualora dovessero respingere il prezzo da quel livello potrebbe e dico potrebbe trovare supporto su aree su livelli di prezzo pre costruiti mettiamola così ricostruiti perché comunque ci vuole tempo per costruire la tendenza per assestarla e per creare naturalmente punti di appoggio quindi scaliamo di tempo prima andiamo a vedere sul ciclo intermedio come stiamo messi allora il ciclo intermedio partito sempre a luglio fine del 20 luglio vedete ci troviamo nella seconda area di di top praticamente allora togliamo un po di linee se no qua queste qua ok la seconda area di top è prevista per il 19 20 settembre molto probabilmente visto che anche qui il ciclo intermedio il minimo centrale si è spostato leggermente verso destra poi considerando che i cicli rialzisti durano mediamente più dei cicli ribassisti considerando anche che anche qui c'è vedete una schematica huaico fiana di accumulazione non di ri accumulazione almeno dal mio punto di vista per quale motivo parte il patte la proprio la costruzione del prezzo che suggerisce un accumulazione ma perché c'è stato lo stop dato da questa da quest'alternarsi di candelleri bassiste che hanno stoppato la questa quest'onda praticamente eccola qua questa è l'onda il trend stoppato questo trend adesso mica deve questa è una figura di ri accumulazione vedete perché è laterale invece questa qua dopo una tendenza di bassista nella parte bassa sa ha accumulato ha accumulato quindi la violazione della soglia di automatic reverse 3572 proietterebbe proietterebbe il prezzo nei dintorni di quest'area qui nei dintorni di quest'area qui quindi più o meno diciamo il test della resistenza all'interno dell'area che ho segnalato prima compresa tra 4180 e 4372 quindi la tendenza rialzista su questo ciclo se dovesse prolungarsi leggermente possiamo tener conto fino a fine settembre nell'immediato invece andiamo ad analizzare il ciclo settimanale quindi ragazzi quando io faccio un'analisi multiciclica io vado a capire le forze in gioco sui cicli per appunto capire le tempistiche con cui potrebbero verificarsi determinate situazioni parto dal ciclo giornaliero poi non mangio quindi sul ciclo giornaliero vado ad analizzare tendenze di medio periodo di mesi diversi variati mesi sul tipo sul time frame a due ore vado ad analizzare la tendenza di un ciclo intermedio che il ciclo che io preferisco tradare della durata di mediamente tre mesi grosso modo e poi quando voglio capire nell'immediato cosa mi riserva il cosa potrebbe accadere vado ad analizzare il ciclo settimanale perché il ciclo settimanale io riesco a capire quello che potrebbe succedere appunto nei dieci giorni della durata del ciclo settimanale quindi abbiamo ciclo settimanale partito il dieci settembre abbiamo una forte accelerazione dell'ultimo delle ultime ore praticamente dal proprio nelle ultime ore si una forte accelerazione da qui vedete come la velocità si è portata proprio si è distanziata di molto dalla sua media adesso mi aspetto comunque una leggera fase o può continuare a salire di poco o comunque una fase laterale perché il prezzo si è cioè il la velocità si è allontanata molto dalla sua media e solitamente quando accade questo o il prezzo rallenta solitamente rallenta perché c'è un ritorno alla media quindi viene se ne si chiama main reverting se non sbaglio ritorno alla media non sono bravo in inglese ormai ve l'ho detto cento volte però meno male il ritorno alla media dovrebbe esserci quindi o lateralizza qualora questa resistenza venga violata sopra la resistenza oppure viene repulsa leggermente da questa resistenza la velocità si stabilizza un pochettino qui sopra e poi riparte nuovamente il movimento rialzista comunque su questo ciclo settimanale la tendenza rialzista anche qui è fino al 17 18 settembre dopodiché una leggera fase di orizzontalità barra debolezza ma poca roba poca roba anche se a queste condizioni è molto probabile che acceleri molto velocemente si porti di sopra di 3.700 dollari vediamo cosa succede vediamo come cosa succede anche qui abbiamo diversi livelli di resistenza di di supporto al di sotto dei livelli attuali e diciamo il livello di supporto il primo livello di supporto è nei dintorno di 3400 eccolo qua 3450 ma arrotondiamo 3450 poi abbiamo 3325 al di sotto di questo livello qua di questo qua abbiamo 3150 dollari e poi ci sono i classici 3050 è un'area ad altissima liquidità che non credo che venga toccata almeno nell'immediatissimo ma spero nemmeno dopo che è compresa tra 2950 e 3000 dollari questa è una superare che avevo anche evidenziato e il prezzo vedete quando è tornato dopo quest'iper estensione ribassista che c'è stata del 7 settembre come l'ha toccata proprio c'è stato subito il riassorbimento perché all'interno di questa c'è un botto di liquidità e ve la faccio vedere meglio sul giornaliero eccola qua praticamente cosa cosa è successo io non l'ho detto non mi aspettavo una tale intensità ribassista io credevo che dopo il rosso e purtroppo ragazzi vi comunico che il mitico john ross è venuto a mancare qualche giorno fa quindi dopo il rosso solitamente l'area di trading range che precede il rosso o la legge viene ritestata solitamente o il tetto della del trading range o della legge o l'area centrale addirittura il prezzo cosa ha fatto attestato la parte bassa del trading range andando a pescare liquidità all'interno di queste lower shadow che solitamente se uno le sa a leggere le lower shadow sono degli ottimi e dico ottimi livelli di acquisto livelli ottimi livelli di acquisto i volumi ancora non abbiamo volumi interessanti sul giornaliero sono leggermente crescenti rispetto a ieri però vorrei vedere una bella botta di volumi bella come piace a noi carica perché mettono appunto quando c'è la bella botta di volumi solitamente mettono carburante sul all'interno dell'asset questo è il senso e credo di aver detto tutto ragazzi sui di quindi abbiamo un po la visione completa di quello che potrebbe accadere accadere anche su i dirium vediamo che sta combinando adesso ci sono diverse scelgo qua vedete quando succedono succede questo poi abbiamo anche qui una piccola distribuzione vai coffiana sul 15 minuti primo massimo secondo terzo massimo scelgo pronunciate quindi alla violazione di questo livello può forse una piccola non dico piccola correzione ci sta magari va a prendere liquidità qui sopra e poi risale ecco qua questo è un bel livello proprio bel livello d'acquisto compreso tra 3430 3430 si e di 3450 poco più 55 perché 3450 quando sono numeri belli pieni interi meglio mettersi qualche dollaro in più sopra perché comunque una soglia psicologica no quindi attenzione a un piccolo ritracciamento potrebbe esserci e qualora ritracci tenete in considerazione come ultimo livello questo qua ma ce ne sono di diversi anche questo è un bel livello però è troppo vicino dei per i miei punti almeno per il mio punto di vista questo ma potrebbe essere un bel livello perché vedete ci troviamo proprio in mezzo tra questo queste candele qua e queste shadow qua quindi potrebbe essere un bel livello dove poter prendere qualche qualcosina e qualcosina e poi magari mediare man mano che il prezzo scende e se dovesse arrivare qua allora bella posizione si può costruire davvero per chi non l'avesse fatto è naturalmente una bella posizione ricordo per l'ennesima volta che non sono consigli finanziari ma stiamo effettuando uno studio uno studio sulle ciclicità degli asset crypto perché come al solito il disclaimer ragazzi questa è un'operatività ad alto rischio come tutti gli investimenti finanziari non sono free risk non sono esenti dal rischio quindi non voglio fare il consulente finanziario ma sono un trader indipendente e vi trader indipendente formatore e io segnalo la mia operatività non dico a voi quello che dovete fare quindi se lo fate a vostro rischio è pericolo poi un'altra cosa nel momento in cui visto che è capitato tante volte io quando segnalo un'operatività la segnalo per tenerne traccia io sulla sulla piattaforma ma sconsiglio di replicarla perché io ho la mia in gestione di quel trade e non so se voi poi siete in grado di gestirlo quel trade quindi attenzione quando ma non solo se lo faccio io anche se lo fanno gli altri se viene segnalato un probabile livello di acquisto non replicatelo ad occhi chiusi perché voi non sapete minimamente né il profilo di rischio che è disposto ad assumersi il trader non sapete la strategia che applica quel trader diciamo siete all'oscuro di tante informazioni che potrebbero andarvi contro che potrebbero arregarvi rischi quindi attenzione nel replicare l'operatività altrui questo è fattibile se avete piena coscienza dell'operatività di quella persona perché se non ce l'avete non lo fate non lo fate perché voi potreste e dico potreste perdere tutto tutto quello che avete investito non dico che si vengono a prendere la casa però se voi mettete che ne so un euro su quell'operazione rischiate di perdere quell'euro tanto per fare un esempio questo è bene dirlo quindi ragazzi mi sa che ho detto tutto sui dirim si poi passiamo a buy nance buy nance ancora proprio bellissimo buy nance perché ha costruito qua vedete lo stesso pattern che mi piace tantissimo questi pattern e di trading range con candele molto molto contenute danno degli spunti operativi eccezionali inoltre gli spiego questi pattern molto spesso ai miei studenti qua abbiamo la tipica last candle questa qua è stata la candela sulla quale anche io personalmente ho preso posizione perché quando si verificano queste robe qui solitamente si verifica una candela di direzione contraria alla direzione che effettivamente prenderà il prezzo quindi se uno li conosce questi pattern e li sa interpretare bene sono dei pattern ad altissimo rendimento altissimo rendimento quindi binance abbiamo sul ciclo annuale stiamo prendendo forza ancora non è che ci troviamo in situazione di estrema forza abbiamo da poco preso forza da poco però non abbiamo accelerazione non c'è accelerazione la volatilità nell'ultimo periodo sta aumentando è iniziata ad aumentare da questo minimo qui quindi l'inversione di tutta questa tendenza l'indicatore me l'ha segnalata qua quindi fin qua poteva essere anche un trading range quindi poi che è successo mi ha identificato il minimo di volatilità sul minimo di prezzo minimo sulla sulla velocità e poi è partito è partito il livello è stato difeso vedete che bel livello che viene difeso quindi 360 tra 370 e 385 dollari è un super livello supportivo allo stato attuale il livello di supporto più prossimo e nei dintorni è 420 dollari 420 dollari quindi scaliamo di time frame vediamo com'è la situazione sul ciclo intermedio sul ciclo intermedio minimo centrale spostato di 45 giorni stessa identica situazione che abbiamo riscontrato sul bitcoin stessa identica anche qui abbiamo il tipico pattern di accumulazione l'area di automatic reversal vedete qua che viene è stato respinto il prezzo una volta due volte la terza cioè la terza volta la ha cercato di portarsi leggermente sopra naturalmente i seller hanno risposto adesso vediamo se magari trova supporto tra i 400 nei dintorni di 420 dollari il prezzo e potrebbe violare questo livello qua una volta violati 436 dollari primo livello di resistenza 460 e poi al di sopra dei 460 abbiamo comunque intorno ai 500 dollari un livello di resistenza poco meno di 500 496 497 dollari diciamo da 490 a 500 dollari mettiamo una bell'area da tensionare all'interno della quale magari potremmo avere il solito la solita la solita la solita reazione a di basso però poi una volta recuperati questi livelli è violato i 534 dollari allora si punta ai 615 dollari questo è il primo super livello di resistenza e al di sopra di questo livello di resistenza poi abbiamo l'area di massimo l'area di massimo che è un altro super livello di resistenza quindi vediamo se all'interno del prossimo ciclo intermedio c'è la possibilità che il prezzo attacchi quell'area naturalmente all'interno di questo ciclo intermedio mi aspetto quantomeno un tentativo di recupero dei 500 dollari perché i 500 dollari è una soglia molto molto un livello di prezzo molto importante quindi anche su binance bene o male la situazione è questa ciclo settimanale ciclo settimanale anche qui partito dal 10 all'11 settembre abbiamo una fase rialzista fino al 17 18 settembre dopodiché uguale c'era fase di lateralità barra debolezza dopodiché ci sarà un altro impulso si spera rialzista poi dirlo adesso è prematuro bisogna procedere sempre step by step inoltre proprio vedete che bella sembrerebbe una bella bullish flag si è disegnato una bella bullish flag qua quindi vediamo un pochettino se su questi livelli qua più o meno l'area la primaria utile dove poter iniziare a prendere posizione potrebbe essere questa già 4 a 4 20 4 25 siamo un po più più abbondanti eccolo qua questo qua è il livello all'interno del quale il livello l'area di prezzo dove potrebbe verificarsi il il reversal di questa piccola tendenza di bassista naturalmente quindi anche su binance abbiamo detto tutto ragazzi se avete qualche cripto da analizzare fatevi sotto e prima che chiuda se queste video analisi queste dirette vi piacciono e possono esservi utile non vi costa niente lasciate un like perché ho notato che siete in centinaia che vedete le mie dirette ma siete tischissimi di like tischissimi a voi non costa nulla lasciare un like a me è un like non è che tre di più mi paghi per il like assolutamente è giusto per capire se quello che faccio può servirvi o è una totale perdita di tempo allora mi chiedono ren ren bel movimento ren wow bella esplosione di volumi sul giornaliero assolutamente un bellissimo movimento ormai prenderle tardi cioè chi è dentro va bene chi è fuori ormai ciao cioè per il momento non bellissimo movimento esplosione di volumi bellissimo proprio davvero davvero bello due giorni di candela di volumi ma se c'è un po di debolezza magari sfruttare la debolezza perché a queste condizioni è molto molto rischioso primo livello di support diciamo allora primo livello di resistenza è questo qua infatti ci ha zuccato sopra proprio oggi primo livello di resistenza e questo qua livello poi abbiamo un altro un attimo che lo segno come va segnato ve li dico a livello tecnico perché le ciclicità vedete anche qui vale lo stesso discorso che ho fatto per il bitcoin perché l'intermedio è partito lo stesso giorno il 20 luglio su questo minimo qua quindi è inutile che vi faccia tutto il resoconto anche qui diciamo l'area proprio di resistenza non è proprio il livello singolo ma è l'area quindi come area possiamo considerare quest'area qua come primaria di resistenza poi abbiamo un dollaro e 34 grosso mondo e poi abbiamo i massimi al di sopra dei massimi chissà dove può arrivare questo non lo so quindi molto molto interessante invece livelli di supporto allora primo livello di supporto è naturalmente questo qui eccolo qua attimo che poi vedete che bel livello di supporto qua primo livello di supporto è questo qua abbiamo un altro super bell'area dove se io dovessi prendere posizioni se il prezzo dovesse ritornare nei ritorni poco sotto un dollaro allora poi qua abbiamo il poc di questa candela vedete a 0 90 a centesimi poco sopra i 90 centesimi abbiamo il poc di questo enorme candelone vedete questo qua quindi l'area proprio che dove sono stati scambiati tanti tanti pezzi all'interno dell'area che ho evidenziato che poi è l'area dell'appershadow di questo appershadow vedete all'interno della anzi togliamo la candela così lo vedete meglio eccolo qua vedete perché quando si opera solitamente chi opera pesante e opera sui volumi nelle area maggiore dove si sono scambiati tanti pezzi è l'area la primaria di supporto utile naturalmente il prezzo qua comunque parte qualche vuoto la salita è stata fatta discretamente dai il movimento è stato costruito discretamente bene però andiamo su un time frame leggermente più più veloce per capire come si è mosso eccolo qua eccolo vedete cioè grandi inefficienze non è che ne abbia lasciato il prezzo da questo minimo qua grandi livelli di inefficienze non ce ne sono stati anche perché abbiamo avuto questa questa grande appershadow ha ritracciato pompa di traccia pompa di traccia e niente un bel bellissimo movimento quindi primo livello di supporto naturalmente questo che già vedete già il prezzo sta prendendo liquidità all'interno di questo livello poi altro livello di supporto è questo qua eccolo qua questo è infine poi abbiamo questo qua e questo e poi abbiamo il super livellone che è dato anche dal boc di questa super candela naturalmente se dovesse ritracciare oggi ha fatto un bel movimento del 32 per cento se dovesse ritornare qua sotto non è una cosa così così bella perché andrebbe a perdere il 16 17 quasi il 50 per cento del movimento che c'è stato quindi diciamo come ultimo livello dove andare io punterei a questa a questa candela di reazione qua questo è un altro pattern che io amo tantissimo quindi se uno proprio volesse prendere posizione oppure accumulare piramidare quella che ha io darei in considerazione questi quattro livelli quindi qualora il prezzo rientri all'interno di quest'area di liquidità cercare di di accumulare la posizione di piramidare comunque comunque allora facciamo così ultimo spagliamoci un fibonacci tanto per capire un pochettino ecco qua il 50 per cento quindi punterei a questo livello e alla fine a questo qui sotto non penso che ci arriva potrebbe anche sporcare se domani dovessero da un padre la vedo la vedo la vedo un po forzata come cosa perché si stanno avviando quindi la vedo un po forzata però tenete in considerazione per chi volesse per chi me l'ha chiesto questi livelli qui quindi per ren credo che stiamo a posto ragazzi qualche qualche altra qualche altra coin fatevi sotto fatevi sotto se no poi vi saluto vi saluto ci sentiamo la prossima settimana nel frattempo ragazzi vi esorto qualora dovesse piacere vi dovesse piacere quello che dico lasciate il like perché è l'unico modo che ho per capire se mina l'abbiamo vista non l'abbiamo vista mina mina già sta cosa qua ma abbiamo un top local arrotondato quando vede ste co allora mina vedete c'è stata è stata listata da poco su vediamo se c'è su un altro exchange perché qui sinceramente vediamola su kraken ragazzi a me non me le dite ste coin perché quando non ha storico che cavolo andiamo ad analizzare non c'è storico che canalizzi il livello di supporto 4 e 56 livello di supporto poi come l'ho vista vi ho detto sul tempo prima 15 minuti c'è un top local arrotondato quando c'è sta roba qua cosa buono non so si dicono dalle mie parti quindi non è una cosa bellissima i top arrotondati i top arrotondati non tenete presente del batter per naturalmente perché non l'ho allineato non l'ho allineato però voglio dire tranquillamente potrebbe tornare verso i 5 dollari tranquillamente potrebbe scendere anche poco sotto i 5 dollari o 4 e 50 il 4 e 56 4 e 58 come ho detto prima il primo livello di supporto interessante più o meno si diciamo che quest'area qua non la misuro bene tanto per eccola qua questa qua no eccola qua questa qua potrebbe essere la prima area supportiva la prima che potrebbe spingersi anche più sotto è anche più sotto non escludo che possa arrivare anche nei dintorni di 4 dollari 4 3 4 20 4 e 30 quindi però naturalmente prendete vele prendete se robe con le dovute precauzioni cioè non mi carica nemmeno gli indicatori perché non c'è storico ma c'è poco storico qui quindi vediamo l'intermedio l'intermedio e beh vedete ci troviamo allora si inizia a correggere adesso inizia la correzione di un ciclo intermedio anche perché vedete sta divergenza sull'oscillatore di prezzo significa che ci troviamo agli sgoccioli di una ciclicità di un ciclo poi ho accamminato tanto ho fatto il 600 per cento di più il 7-800 per cento ragazzi questo perché mi sbragano un 40 per cento è probabilissimo dai prezzi attuali ed è anche normale ed è anche normale ed è anche normale comunque per concludere andiamo a vedere Matic Matic Polygon Matic Network allora ha difeso bene anche se l'ha sporcato questo livello di supporto che mi ha dato diciamo sono un po' sporchi perché è un po' nervosa come coin però bene o male il prezzo dovrebbe tranquillamente portarsi sopra un dollaro e 80 sopra 1,72 tranquillamente naturalmente le aree di importanti resistenze sono queste due sono queste due poi se dovesse pompare naturalmente Ethereum o Matic seguirà perché ricordo Polygon o Matic prima si chiamava Polygon o al contrario non mi ricordo comunque Polygon Matic è un layer di Ethereum serve per far pagare meno fee ad Ethereum perché Ethereum per chi non lo sapesse al di sopra di 4 transazioni al secondo al secondo le fee aumentano tantissimo allora cosa si sono inventati gli sviluppatori di Polygon? hanno fatto un layer su Ethereum in modo che qualora le commissioni iniziano cioè qualora le transazioni iniziano ad essere superiore a le 4 al secondo beh passano sulla blockchain di Matic quindi pagano meno commissioni e a questo serve è un progetto che ha una sua utilità intrinseca perché è collegato ad Ethereum per questo c'è stato questo cioè è diventata così famosa Matic una Germania su Tron Justin Sun sta pompando tweet misteriosi allora io i tweet non li calcolo proprio come non calcolo le notizie e le news perché non sono tradabili sono cose allucinanti quindi guardate i trader ma chi fa trading veramente ma ve lo dico spassionatamente i professionisti le notizie se le guardano a fine giornata non è che esce la notizia e piglia parti apro l'operazione a longa perché è uscita una notizia bella sul si sti cazzi cioè chi la doveva tradare quella notizia già l'ha tradata quindi arriverete sempre tardi e vi morderete sempre il gomito sulle notizie quindi voi le notizie benissimo leggetevele a fine serata ma tenete le news dategli la considerazione che merita cioè sul brevissimo ma i mercati ed è una della legge dell'analisi tecnica di DAO praticamente e i mercati scontano tutto quindi all'interno del prezzo è compresa anche quella notizia tanto per vediamo TRX e poi vi saluto TRX TRON eh sì ha fatto un bel movimento ma io l'avevo pure mi sa segnalata si TRON l'avevo segnalata però ha fatto sto dump e non sinceramente quando fanno queste iper estensioni io ho un po' paura a prendere posizioni avevo segnalato One Ingetron infatti ho visto che non si fermava sull'area di supporto che avevo individuato e ho annullato il trade punto punto perché troppa volatilità si rischia si rischia quindi quando c'è troppa volatilità il rischio aumenta troppo quando si è all'interno del trade e poi la volatilità esplode nella direzionalità in cui siamo posizionati va bene ma se no no se no no e niente come aree di resistenza la prima area più o meno ci ha zuccato proprio adesso la primissima poi abbiamo eh 0 o 13 130 e 99 poi abbiamo eccole qua sono segnate l'avevo già fatta la NASA eh 0 156 poi l'area di dei dell'all time high al di sopra di questa di questo livello poi c'è il il nulla nel senso potrebbe arrivare dove dove vuole dove vuole per quanto riguarda il calcolo delle ciclicità uguale a bitcoin ve l'ho detto prima le tempistiche quelle su perché perché per uno dei principi dell'analisi ciclica naturalmente per la legge non è nemmeno una legge è un principio per il principio della nominatività mercati simili avranno cicli di durata simile tranne che per qualche in particolare le ciclicità una volta fatta l'analisi fatta bene sul bitcoin per il 70 80 per cento delle criptovalute vale la stessa analisi ciclica e questo è tranne che per qualcuna che ha una ciclicità tutta la sua ma bene o male sono quelle va bene ok ragazzi è stato davvero un piacere stare in vostra compagnia vi ringrazio per i 120 like vedo wow 120 like che mi avete lasciato quindi ragazzi niente ci vediamo alla prossima puntata mi raccomando non replicate le operatività alla cieca quindi sempre stop loss non mi cioè non mi stancherò mai di dirlo sempre sto stop loss e money management quindi non vi sovraesponete perché rischiate di lasciarci le penne con questo ragazzi è concluso perché si è fatta una certa io come sapete inizio a lavorare alle otto meno un quarto di mattina perché trato anche i mercati azionari diciamo un po qualcosina la faccio sul mercato europei qualcosina la faccio anche sui mercati americani quindi da stamattina sto quasi andando mi sta partendo la brocca ragazzi concludo buonanotte e alla prossima puntata di crypto splits ciao